ciao pillolini ecco per voi anche oggi una storia sapete dove sono o sono in una stanza delle storie dove c'è un vecchio baule e se lo apro escono tante tante parole e da lì mi metto a raccontare storie giusto per voi è un vecchio baule che mi regalò mio zio un po di tempo fa ma neanche troppo e io l'ho riempito in tutti questi anni di tante 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 fantasie e poi c'è una poltrona di vimini intrecciata dove mi siedo e racconto per voi queste storie o sapete è una stanza molto carina dovreste vederla un giorno forse ve la farò vedere siccome è quasi natale si tratta di storie di natale attenzione pillolini ora racconto per voi il pettirosso nella stalla dove stavano dormendo giuseppe maria e il piccolo gesù il fuoco si stava spegnendo presto ci furono soltanto alcune braci e alcuni tizzoni ormai spenti maria e giuseppe sentivano freddo ma erano così stanchi che si limitavano ad agitarsi inquieti nel sonno nella stalla c'era un altro ospite un uccellino marrone era entrato nella stalla quando la fiamma era ancora viva aveva visto il piccolo gesù e i suoi genitori ed era rimasto tanto contento che non si sarebbe allontanato da lì neppure per tutto l'oro del mondo quando anche le ultime bracci stavano per spegnersi pensò al freddo che avrebbe patito il bambino messo a dormire sulla paglia della mangiatoia spiccò il volo e si posò su un coccio accanto all'ultima brace cominciò a battere le ali facendo aria sui tizzoni perché riprendessero ad ardere il piccolo petto bruno dell'uccellino o diventò rosso per il calore che proveniva dal fuoco ma il pettirosso non abbandonò il suo posto scintillero venti volarono via dalla braccia gli bruciarono le piume del petto ma egli continuò a battere le ali finché alla fine tutti i tizzoni arsero in una bella fiammata il piccolo cuore del pettirosso si gonfiò di orgoglio e di felicità quando il bambino gesù sorrise sentendosi avvolto dal caldo ed allora il petto del pettirosso è rimasto rosso come segno della sua devozione al bambino di betlemme ciao pillolini alla prossima pillolini e ricordate che un giorno io vi accoglierò in questa stanza dal vivo verrete qui e troverete tante tante parole che io vi dirò a questa stanza sotto al teatro in un quartiere di questa città che poi vi dirò aspetta solo voi ma intanto il caldo delle storie ci tiene compagnia quando verrete qui in questa stanza sotto al teatro europa di parma in via orador 14 ne vedrete e ne sentirete di tutti i colori ora ve l'ho rivelato dove sono questo progetto è a europa teatri ciao pillolini